Io ho parlato con Massimiliano, Massimiliano praticamente ha fatto riscontro a quello che disse Beppe Marotta, lepre e cacciatori, ma è venuta una cosa involontaria, una cosa quasi da ridere, nel senso che voleva soltanto far seguito a quello che aveva detto Beppe Marotta, anche perché Beppe Marotta è una persona seria, parla da persona seria e Massimiliano Allegri è la stessa cosa, però vedi certe volte reagisce chi ha la coda di paglia e loro praticamente hanno avuto una reazione spropositata nei social, ma soprattutto il solito Moratti, ma stesso e zitto, ma stesso e zitto che guadagnerebbe tanto.